amici di corse di moto tv a pochissime ore dall'inizio moto mondiale in catar siamo con michele piero con l'autore ufficiale di ducati ciao michele ciao ragazzi ciao iniziando moto mondiale beh tu sei riduce no da una doppia sessione a sepang dove hai fatto prima lo shay down poi sostituito morbidelli poi si è andato in catar quello che tutti ci chiediamo al di là dei tempi che abbiamo visto registrare fatto fatto registrare da bagnaia bastianini martin questa gp 24 che tu voglio dire sviluppato ecco quali sono le novità o su cosa state ancora lavorando i risultati di questi test con tuo parere ma diciamo che abbiamo lavorato sui dettagli perché comunque partiamo da una base veramente buona e quindi non c'era bisogno di stravolgere troppo la situazione e l'aerodinamica un po l'elettronica anche un po il motore ma parliamo di dettagli non parliamo di stravolgimenti e quindi sarà 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 importante ecco costruire step by step la fiducia dei piloti perché sarà un mondiale lungo tosto abbiamo visto già l'anno scorso che comunque è importante essere costanti e sempre diciamo sempre a posto o se non si è a posto di cercare di portare a casa il massimo lo sapete le ducati in pista sono tanti piloti competitivi altrettanti tu c'hai l'occhio lungo su questa domanda che io ti sto per fare su questo argomento chi vedi come possibile o outsider o comunque principale avversario di chiaramente pecco bagnaia perché parte da favorito pecco ma sicuramente pecco bagnaia e pecco bagnaia e alla fine ha dimostrato anche nei test invernali di essere in riferimento e questo non bisogna dimenticarlo poi è chiaro che la ducati ha il vantaggio di avere un sacco di piloti veloci e questo devo dire che è un orgoglio perché quando sono arrivati in ducati nessuno voleva venire in ducati perché era la moto tra virgolette peggiore e quindi adesso invece siamo scelti per essere la moto migliore quindi quando un pilota vuol provare a vincere chiede una ducati come ha fatto marquez ultimamente e e quindi direi pecco comunque credo che sia il favorito e parte comunque eh da campione del mondo eh però poi ci sono vabbè martin bezzecchi che sono comunque i primi tre del mondiale dell'anno scorso poi c'è bastianini in ripresa eh di gianantonio che ha fatto un finale di stagione incredibile l'incognita marquez che sicuramente sarà della partita dei marquez perché non sottovaluterai anche alex e e quindi sarà così i morbidelli che purtroppo non abbiamo troppi riscontri perché poverino ha fatto un pre-season praticamente eh non in moto per via dell'incidente a Portimao e quindi per lui credo che i risultati si potranno vedere dopo qualche gara e poi ci sono KTM Aprilia Yamaha che sta lavorando tantissimo come Honda tutto quindi sarà un mondiale tosto e anche in Qatar come a Sepang comunque se si faceva la gara era difficile decretare come sarebbe andato a finire quindi è veramente difficile fare un pronostico e perché sono tutti molto vicini tutti molto veloci quindi potrebbero cambiare le dinamiche per qualche dettaglio qualche anche qualche errore qualche lungo la partenza sbagliata quindi qualche favorito che parte male quindi c'è potrebbe essere questo anche il tema eh delle prime gare domanda secca Michele Mark Marquez si è nascosto nei test o un po' sta tribolando? No io credo che non è che sia nascosto è che il livello è veramente alto quindi per chi pensa che o pensava che vince dando un secondo agli altri si sbaglia perché il livello di tutti i piloti della MotoGP è veramente alto e anche lui si rende conto è chiaro che quello che succederà rispetto alla Honda che potrà lottare con con i primi senza magari rischiare come faceva con la Honda quindi credo che parta con quello con quello e si giocherà sicuramente le gare i podi eh a parità di Bagnai a Bastianini Martin e tutti gli altri concessioni concessioni sono stato un po' l'argomento dell'inverno perché lo sappiamo bene tu ogni anno ti potevi diciamo mettere in mostro comunque metterti alla prova con delle wildcard le concessioni fanno sì che Ducati non possa schierare wildcard ecco questo argomento Michele visto che sappiamo che sarà blindato fino al saxering e probabilmente non cambierà tanto dopo il saxering come lo vivi? Ma diciamo che è una domanda un po' scomoda perché adesso mettermi in mostra ormai a 38 anni faccio faccio poca mostra divertirti in gara divertirmi in gara e mi dispiace perché non mi aspettavo una mossa diciamo così poi a novembre eh sicuramente è stata una mossa contro Ducati contro il sistema Ducati contro quello che abbiamo messo assieme questi anni e sicuramente magari la cosa positiva è che dici che hanno individuato anche nel in quello che abbiamo fatto col test team un'arma comunque importante eh d'altra parte da pilota da comunque per quello che è stato fatto in questi anni dici vabbè ma cosa cambiava tre gare come terza moto così invece si vede che per le altre case fa una bella differenza ce ne siamo fatti una ragione mi dispiace perché comunque era un'occasione anche per confrontarsi diciamo con gli altri sai anche facendo solo il collaudatore è importante anche avere un feedback guardando gli altri in gara nonostante c'era l'occasione per tenerti sempre ad un buon livello ma anche l'occasione per guardare gli altri livello così e questa opportunità qua quest'anno non ci sarà almeno per i primi sei mesi ma pensa che devo essere eh cioè se vinciamo troppo devo essere scontento perché poi non posso farle wild card però è una una cosa non bella dal punto di vista sportivo ma eh me ne faccio una ragione vediamo eh se mi perché quest'anno diciamo la prima parte di campionato eh per partecipare alle gare devo sostituire qualcuno e quello non è mai bello anche se uno dice così però sai non è mai bello sostituire un pilota che si è fatto male perché è un collega perché così quindi le mie le mie wild card erano diciamo le le sostituzioni le ho sempre fatte ma soprattutto negli ultimi anni anche un po' dispiaciuto perché va in un contesto di squadre comunque che hanno altri piloti che si devono adattare così le wild card era anche un premio anche al gruppo che lavoriamo sempre fuori dalle telecamere e quindi magari ottenere una buona prestazione anche una buona cosa era un qualcosa in più eh quest'anno per i primi sei mesi non ci sarà poi vediamo dai poi vedremo facciamo un velocissimo escurso sulla superbike perché dovete sapere che quest'inverno e Michele parlavamo io ero un po' dubbioso sul ritorno di Iannone e Michele mi diceva eh vedrai che in Australia prima gara che lo sapete è andata in scena andrei a fare bene e beh ci hai messo hai messo due soldini alla snaggia oh podio c'avevi ragione tu cioè Iannone comunque ha dimostrato di poter andare forte nonostante gli anni di fermo no sono contento che mi ha scritto dopo gara 1 che ci siamo sentiti e mi ha detto che ero stato il primo a rifarlo salire su una Ducati quindi eh questa è una cosa carina ma soprattutto perché siamo della stessa generazione abbiamo corso in Ducati sempre insieme così e ha avuto un un piccolo incidente di percorso con vicissitudini diciamo un po' gliel'avranno fatta pagare anche troppo eh però credo che il talento non gli manca e quando gli ho fatto provare la Ducati perché eravamo proprio qui a Vallelunga l'anno scorso a febbraio che ebbe un incidente con l'Aprilia e allora per battuta gli ho detto ma perché non non provi una Ducati e un mese dopo per caso a Misano è venuto e gli ho fatto gli ho fatto provare una Ducati e mi aveva sorpreso perché comunque lo vedi che non si era dimenticato anzi cioè andava forte quindi io quello che ho fatto ed essere sincero e dire secondo me è uno che ancora alla Superbike al nostro mondo può dare e quindi è giusto dargli un'opportunità quindi quello che ho potuto fare poi siamo stati a Portimao a metà gennaio con le moto di allenamento comunque aveva dimostrato avevamo girato assieme che era veloce e in Australia diciamo ha completato l'opera poi è chiaro che sarà un mondiale particolare comunque le dinamiche però è uno che non si è dimenticato di come si fa e sicuramente in Superbike può dire la sua è tornato il 51 sulla tua carena adesso parliamo chiaramente di italiano qui a Vallelunga Team Barney Spark Racing Team va bene sarai al CIV dove proverai a conquistare l'ennesimo titolo ma la notizia un po' qui è che il garage 52 Racing Team il team che tu hai fortemente voluto oltre Nicola Sfruscione e Diego Palladino qui ha schierato una novità assoluta Davide Stirp sì diciamo che il progetto del garage 51 Racing Team by Barney nasce con l'idea di far crescere i ragazzi giovani e anche i ragazzi della scuola che abbiamo a Misano l'ITS Maker dei ragazzi dei meccanici quindi è un percorso è un road to moto GP diciamo se vogliamo sia da parte dei meccanici sia da parte dei piloti o comunque dei giovani poi chiaro chi ci riuscirà chi non ci riuscirà però l'obiettivo è quello è chiaro che a questo progetto l'anno scorso c'era assaltuariamente Ferrari che comunque quest'anno non può esserci sempre quindi abbiamo deciso di affiancare ai due ragazzi giovani un ragazzo più esperto che è Stirp che comunque due volte campione italiano è un ragazzo molto veloce e comunque lui lavora anche per Ducati quindi mi fa piacere dargli questa opportunità con tutto il gruppo ma soprattutto può essere di grande aiuto ai ragazzi giovani che devono prendere confidenza con questa moto quindi il progetto diciamo è un team ma è un team rivolto a far crescere delle figure professionali nel mondo del lavoro per quanto riguarda i meccanici e nel mondo dei piloti dare l'opportunità dei ragazzi giovani di iniziare una carriera poi quello che possiamo fare è fare tutto al meglio perché comunque chi ci lavora è a partire da me a tutto il gruppo e le persone coinvolte perché in questo progetto sono coinvolti più che altro degli amici che contribuiscono a far crescere questo progetto che è un progetto molto bello soprattutto nato a Misano con il circuito, con la scuola, la scuola di meccanici che ci tengo molto perché stanno venendo su dei ragazzi molto molto validi e poi i piloti, fare il pilota non è facile quindi non è che possiamo dire così però dare l'opportunità dei ragazzi è l'obiettivo e vediamo come andrà Sì, sottolineo questo aspetto perché lo sapete tutti insomma i piloti crescono nelle varie fasi della carriera dei team però insomma non si era praticamente mai visto che qualcuno si prendesse cura delle figure che girano dentro un team anche se poi quelli che mandano avanti, team meccanici, telemetristi, ecco i TS Maker con i corsi che voi avete organizzato ideato dalla possibilità a questi ragazzi di entrare, permettevi, dalla porta principale nel mondo del motorsport e non è poco, non è poco Chiudo Michele dicendo, quali sono i prossimi appuntamenti? Va bene, il CIV inizia ad aprile Inizia ad aprile, sarà comunque una stagione particolare La mia decima con Barney Non ho l'ossessione del decimo titolo Perché lo faccio Faccio ancora questo perché mi diverto E farò del mio meglio Cercando di non fare gli errori dell'anno scorso E soprattutto divertendomi E seguendo magari i ragazzi giovani da vicino Tutto e poi comunque Farò qualche test con la Superbike del Mondiale Perché andrò a Barcellona Per cercare di portare avanti anche un po' di lavoro su quella moto lì E la MotoGP perché non ci fermiamo Perché comunque il 2027 non è poi così lontano Quindi bisogna appena inizia il regolamento Già cominciare a prepararsi E il CIV sarà comunque una cosa bella Divertente con un livello del campionato Anche se non siamo tantissimi iscritti I primi 5-6 sono comunque di livello importante E cerco di fare del mio meglio Nonostante la mia giovane età avanzi La giovane età di Pirro? Ricordiamo 22enne da scherzo 22 sono sempre più i vestigioni Ma l'IVA quella non è al 22 Senti una cosa avversario Chiudo avversario principale al CIV che ti aspetti Luca Bernardi, Aprilia? Ma sicuramente Bernardi, Del Bianco Loro sono comunque quelli che hanno dimostrato Mi dispiace che non c'è Zanetti Perché il campione italiano era giusto Cioè era bello che ci fosse E poi sicuramente ci sono tanti giovani Che possono avanzare E quindi vediamo Però noi dobbiamo fare il nostro E poi ci vediamo in pista E allora un grande in bocca al lupo Michele Pirro per la MotoGP Per la Superbike Che aspetta andrà adesso a Barziano a provare E ovviamente per il Dunlop CIV Che tra pochissimo partirà Bocca al lupo Ciao ragazzi Grazie